necessità di riaprire condiviso da me dal presidente draghi la scienza è scienza quando si chiude la scienza deve essere scienza che quando si riapre quindi se grazie alla pazienza degli italiani al sole ai vaccini ai medici gli ospedali tornano sotto controllo in intere aree del paese è giusto con tutte le caute del caso riaprire quindi l'obiettivo è comune e l'obiettivo è comune da realizzare entro aprile